Musica Bentornate e bentornati con le previsioni a cura di Meteo One. Il centro di bassa pressione è oggi situato sul basso adriatico e ciò comporterà oggi e nei prossimi giorni un deciso maltempo su tutto il sud, accompagnato da forti precipitazioni su vaste aree, in particolar modo sulle coste tirreniche e da temperature che via via risulteranno sempre più fresche. Ma andiamo ora a vedere il tempo sulle nostre regioni per lunedì 19 settembre. Al mattino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su Salento e coste pugliesi. In Basilicata avremo rovesci di moderata intensità su tutta la fascia più occidentale. In maltempo poi, a partire dal pomeriggio, tenderà a spostarsi su Foggiano, Barese e Materano e coste adriatiche del centro nord Puglia. In serata il tempo sarà in miglioramento un po' ovunque. Il passaggio delle precipitazioni sarà accompagnato da un calo delle temperature, cali che risulteranno più consistenti nei valori minimi. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali in rotazione dai quadranti settentrionali in serata, a partire dal nord delle due regioni. Mossi lo Ionio e il basso adriatico più calmi sulle coste al nord. Oggi per la consueta rubrica La Foto del Giorno ringraziamo la nostra telespettatrice Marianna da Castellana Grotte, Cumulo Nembi, informazione sui cieli pugliesi, illuminati dalla luce e dal sole al tramonto. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella puntata di domani. Da Meteo One è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento.